spy storia no c'è questo momento in cui ci sono tanti miliardi di disposizioni per infrastrutture infrastrutture di rete fibre eccetera eccetera è uscito in questi giorni questa opa offerta pubblica di acquisto da parte di americani nei confronti di team che sbaraglia un po le carte proprio in questo momento in cui si sta decidendo chi deve creare l'infrastruttura portante per quanto riguarda la trasmissione di dati in italia per cui qua si è aperto un grandissimo scenario prendendo il governo cassa depositi prestiti vivendi c'è tanti player che oggi sono lì che stanno cercando di capire come sbrogliare questa mancanza complessa esatto stefano marco galluzzo per il corriere della sera ci dà una diciamo un'anticipazione come se fosse una sorta di trailer di questo giallo di questa spy story che vede giustamente come dici tu la vicenda di team in particolare della rete unica la famosa rete unica per quanto riguarda il digitale in italia che ovviamente si lega a quel piano di 4 miliardi di investimento che il pnrr vuole per cui una cabina di regia affidata al ministro daniele franco del mef che dovrà cercare di sbrogliare questa matassa molto ingarbugliata che vede appunto al centro la nostra azienda di conosco nel senso che per anni è stata pubblica e invece negli ultimi vent'anni ovviamente si è passati alla privatizzazione che potrebbe tornare a diventare pubblica attraverso la partecipazione di cassa depositi e prestiti cassa depositi e prestiti che è già parzialmente tra l'altro anche su un altro operatore che è open fiber che potrebbe essere il partner ideale per andare a costruire questa rete unica e un binomio quindi un binomio che porta all'unione della rete c'è un fondo americano che ha fatto un'operta di acquisto in questo momento ovviamente le carte sono sul tavolo si sta cercando di capire quella che potrebbe essere la soluzione ma ovviamente diciamo il le puntate sono estremamente aperte quindi cercheremo di capire che cosa che cosa succederà e che cosa decideranno anche il ovviamente il ministro corao e poi le varie forze politiche in campo perché è una partita non solo economica e finanziaria ma anche molto politica assolutamente infatti loro hanno definito un'opa amichevole presuppone che se la richiesta di opa amichevole non dovesse andare in porto probabilmente andranno direttamente sul mercato a fare l'astrellamento di azioni per cui come una vicenda un po' tutto da capire e da scoprire l'astrellamento di azioni